a tutti gli ascoltatori di in volo che è una radio web che adesso ascolterò anch'io eccoci su radio web in volo siamo alla fine di play dj e abbiamo incontrato chico dugliani che ringraziamo ciao ragazzi ciao ciao a tutti eccoci ciao grazie per essere qui con noi ascolta com'è andata questa edizione di play dj è andata molto bene con una grandissima risposta di pubblico era la seconda edizione devo dire che i san marinesi hanno risposto molto bene siamo molto contenti la prima sera se non ricordo male 4.000 persone ieri sera che è stato l'evento conclusivo con alberto giordana e ron ce ne erano 3.000 quindi insomma è andata piuttosto bene tante attività sportive gratuite un sacco di san marinesi ma anche ragazzi provenienti insomma diciamo dalle zone limitrofe del territorio che hanno partecipato e noi siamo stati sempre in diretta da qui siamo stati molto bene quindi play dj yeah come è stato perché tu hai lavorato tantissimo anche qui a san marino è stato un po la patria che ti ha anche un po consacrato comunque in un certo senso consacrato sei troppo buono grazie per l'utilizzo di questo verbo e no io sono particolarmente legato a questo territorio perché mi sono sempre trovato bene ho lavorato come voi sapete in in r tv per sette anni ho fatto un sacco di cose non solo radio anche un po di televisione quindi qui torno sempre molto molto volentieri bello riavocare comunque questa cosa io ti dico questa cosa tu sai che fra due giorni e settembre è la festa appunto della pubblica anche un po il capodanno san marinesi ne abbiamo parlato anche oggi in diretta sì ok augurarci buon anno di radio e ben volato di san marinesi assolutamente tanti auguri buona festa della repubblica tutti i san marinesi auguri a voi di in volo web radio giusto così vi chiamate da quanti anni esiste la radio faccio una domanda io a te si radio e ben volo compirà praticamente un anno il 3 dicembre come trasmissioni come emittente esatto allora festeggiamo il 3 settembre festa della repubblica il 3 dicembre il compleanno vostro va bene grazie mille ciao 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 ragazzi